Buongiorno a tutti, buon venerdì, io sono Angela e tu stessi al mio canale, tutto dal web. Edoardo, Donna Maria, ieri nella puntata del GF è stato squalificato. Il motivo ve lo svegliamo noi in questa brevissima clip e poi ne parliamo insieme. Guarda il video. Non l'avevi fatto con l'hamburger, scusami. Non c'era l'hamburger, non c'era l'hamburger, non c'era il cazzo. Dai regà, scusate, faccio il panino e mi ho riporto in giro perché non è con l'hamburger. Donna Maria, come abbiamo visto da questa clip, è stato squalificato per questo motivo. Qualche giorno fa, infatti, Edoardo ha preparato un panino ad Antonella, ma quando la ragazza si è lamentata per alcuni ingredienti, Edoardo gliel'ha strappato di mano e ha iniziato quindi a dire brutte parole contro di lei, come abbiamo visto nel video. Alfonso ha spiegato al pubblico che Edoardo ha ricevuto diversi richiami, quindi non si sono attaccati solo a questo. Edoardo ha avuto anche un colloquio personale proprio con Alfonso Signorini qualche giorno fa nel confessionale, ma Edoardo non abbia mai accettato e ascoltato questi consigli. Vista anche la nuova linea che è stata imposta da Mediaset, hanno chiesto meno volgarità e per questo motivo Edoardo è stato squalificato dal programma 25 giorni dalla finale. Dimmi tu che cosa ne pensi? Lascia un mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Ti ricordo di attivare la campanellina perché solo così non ti perderai questo ma nessun altro. Prossimo video, ciao! Ciao!